Buongiorno. Buongiorno. Oh, buongiorno. Come va? Sempre in servizio, eh? Si lavora, si lavora. Che dobbiamo fare? Cosa prendete? Ma per me... Eh, per piacere, per piacere, stai fermo. Oggi offro io. Offre lui, offre lui. Che cosa prendi tu? Ma la stessa cosa che prendi tu, dai. Due caffè. Benissimo. E allora pure a me due caffè. Grazie.